Tragedia attorno alle 20 a Nuoro nel rione di Città Nuova. Due ragazzi di 14 e 15 anni, Patrick Zola e Ethan Romano, sono deceduti dopo essere stati travolti dal tetto di un rudere situato in un terreno di fronte alla chiesa di San Domenico Savio. Scattato l'allarme sul luogo dell'incidente, sono recati i vigili del fuoco che hanno cercato di liberare i ragazzi dalle macerie, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. I due giovani sono stati estrati dal rudere privi di vita. Sul posto anche i sanitari del 118 e la polizia di Stato. Sul luogo dell'incidente sono recati Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, il prefetto Giancarlo Dionisi e il questore Alfonso Polverino. La Procura della Repubblica ha avviato un'indagine per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. La notizia dell'incidente si è diffuso rapidamente in città e tanti nuoresi sono accorsi sul luogo della tragedia che ha lasciato la città senza parole.